Grazie, la prossima volta un po' più di delicatezza. Ben ritornati a Rebus Questioni di Conoscenza. Come avrete capito questa sera ci concentriamo con una puntata veramente speciale sul grande mito di guerre stellari. Quella saga nata dalla mente geniale di George Lucas che a distanza di 30 anni non ha ancora subito nessuna scaltitura da parte del tempo, ma anzi gode di nuova vita, nuova linfa, grazie anche all'iniziativa di appassionati come Angelo Licata. Andiamo a Dark Resurrection ancora una volta e andiamo in particolar modo sul suo cast, sui suoi attori. Finalmente diamo un po' di spazio alla presenza femminile, non siamo stati molto cavalieri fino ad ora, ma cercheremo di recuperare. Allora, Isabella Tabarini ha prestato, come dire, per quanto riguarda gli attori un piccolo ruolo, ma un grandissimo contributo come doppiatrice. Come ti ha reclutato il regista? Il regista in realtà mi ha reclutato alla fine perché appunto il lavoro era pressoché terminato e tramite un amico comune, un amico attore che è Riccardo Leto, che tra l'altro è all'interno del cast, abbiamo saputo che in Italia si stava realizzando un'opera meravigliosa di cui nessuno ancora sapeva nulla. C'era tanto fermento e ci ha parlato di Dark Resurrection, questo film di fantascienza che si andava a realizzare e ho detto perché non venite a provare a fare un casting per il doppiaggio perché gli attori erano già stati scelti, avevano già girato gran parte delle scene e così insomma abbiamo fatto un provino ed Angelo ha provato a farmi fare quantomeno per la prima volta la doppiatrice perché in realtà sono attrice e come gli attori li prendono a strada, i doppi attori li prendono tra gli attori, fa un po' un delirino. Ti fa le cose senza senso Angelo, l'abbiamo capito. Fa le cose così, però pare sia succeduto che... Poi si va un po' di fortuna, va bene. Non ha logica. Chi ha già visto Dark Resurrection avrà riconosciuto immediatamente la voce della protagonista. Che effetto ti ha fatto impersonare quella che insomma per gli appassionati di Guerra Stellari dovrebbe essere il successore, niente po' di meno, che di Anakin Skywalker? Nell'immaginifico, diciamo così, degli appassionati. Che effetto ti ha fatto? Beh è stata una grande responsabilità anche perché al di là del mito di Star Wars, di Guerra Stellari, quindi l'aspettativa che ci poteva anche essere, avevo di fronte un'attrice bravissima che è Marcella Braga che già da sé faceva tutto e bisognava riuscire a aggiungere senza poi rovinare. E quindi no, c'è stata una grande emozione, un grande imparare anche da lei, da quello che regalava e poi cercare di trovare la strada di un Jedi in addestramento che non è da poco. Sara Ronco, Sara Ronco invece è attrice batta finita nel cast del film. Che cosa ti ha dato in più e che cosa ti ha dato in meno questa esperienza? Ma direi di meno nulla, di più tantissimo. Pazienza che sei andata, cosa non vorrei io, fatica fisica. Angelo, secondo me quello che ha dato a me personalmente è sapere che i sogni in qualche modo si possono realizzare, è giusto sognare ed è giusto avere la forza per realizzare i propri sogni. Angelo e Davide hanno avuto un grande sogno e hanno avuto anche la forza di realizzarle, questo secondo me è un messaggio molto positivo che spero si sia anche trasmesso con questo film. Allora, il ruolo che hai impersonato qual era? Ricordacelo. Is, una Jedi. Varevi fare la cattiva o ti andava bene fare la buona? Ma non si capisce tanto nell'uno se sono brava, se sono cattiva, lui dice che sono cattiva. Ma è cattiva nella realtà o è cattiva nel film? No, è cattiva perché interrompo una mia comunicazione durante il film, io ce l'ho con lei. Ah, c'è un fatto personale. Eh sì, la interrompo con rabbia eh, quindi... Però la interrompe bene qua. Sì, e quindi... Angelo, non si dà mai un voto agli attori perché ovviamente, come dire, si è padri di tutti e di tutto il proprio prodotto in qualche modo e tu sei un po' il padre di Dark Resurrection, anzi non un po', sei proprio il padre di Dark Resurrection, ma se dovessi dare un voto all'entusiasmo, alla partecipazione che hai avuto da parte del tuo cast? Sicuramente è un voto fuori scala. Io ho visto attori professionisti e non professionisti lavorare con un entusiasmo incredibile e soprattutto farlo gratis. Perché questo è un progetto no profit, nessuno è stato pagato, anzi, molti di coloro che hanno partecipato hanno contribuito economicamente alla realizzazione di questo progetto e tutti loro hanno pensato alle proprie spese, a spostarsi, al proprio vitto, al proprio alloggio e poi sul set rendevano in una maniera incredibile. Come è più che in un film professionale, io ho visto gente che è proprio impegnarsi in una maniera incredibile. È possibile che la passione e il trasporto per Star Wars, dopo 30 anni, riesca a mettere sullo stesso piano attori professionisti e attori non professionisti e quello che è successo a Dark Resurrection. È faticoso essere una Jedi. Poi è letta, voglio capire. In questi set, magari, tra virgolette, meno professionali o meno professionistici, si trova più passione o come un solito. Assolutamente, perché è l'unica cosa che può riuscire a muovere e a creare, diciamo, la passione, perché il resto dei mezzi non esistono, non ci sono. No, 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 no. Tutto questo vento, fra l'altro lui diceva che, lo voleva fare lui, perché diceva che gli altri non lo facevano abbastanza bene, quindi siccome è molto bravo, voleva entrare nella parte, dice ragazzi il vento non me lo fate bene così. Non ho meglio, lo faccio meglio, se si è riuscita a risparla per fare. E poi la cosa bella è che facendo proprio un'inquatura totale, c'erano Lord Sorran che sventolava, l'ammiraglia Zail che sventolava, tutti quanti che sventolavano, per fare aria in questa scena girata con uno schermo verde sul terreno. Questo regista? Come lo vedi? Il regista è grandissimo, questo... Ma che sta a fare il dentista sto qua? Questo tra poco vedrai, lo richiederanno a Hollywood. Grazie. Grazie. Maestre. Tuo ruolo come l'hai vissuta? Beh, inizialmente con molta difficoltà perché comunque Nemer è un personaggio molto diverso da tutta mia natura. Però la cosa che vedo è pace e allegre. Lo spirito molto amichevole, molto disponibile, tutti diversi. La maestra organa è un po' più sentimentale, più triste, più dolce, più meditativa. Ti somiglia o è differente? Mi somiglia molto. Mi ha preso per quello perché voleva farla cattiva e non riuscivo perché mi diceva che ero io più dolce. E non riuscivo a farla cattiva. Io sono il Dessi? Io perché non sono io. Non sono io. Mi saprai, comunque mi piace fare da mamma sicuramente. Tutto questo l'ho fatto proprio per lui, per il suo amore. Le mamme sempre così per noi fanno. Mi ha emozionato in questa parte, d'altrice. Ma sì, sempre. Diciamo che mi sono ritrovata moltissimo nel abiliare, a vestirsi. Perché i costumi sono... Sì, esatto. Quello l'ho fatto veramente, bellissima, felicissima. Proprio l'ho fatto con il cuore. Adesso devi sentirla. Non farò mai d'ostante. Perfetta, è bellissima. L'hai sentita adesso? Luca, per favore. Marcella Braga è bravissima. Trasuda passionalità, trasuda emozione. Questa cosa è passata anche nel premontaggio verso i doppiatori che si sono alzati dicendo. Ragazza è veramente dotata. Perfetta è un'opertura. del cattivo, tra virgolette, di Lor Sorn. Senza di lui il film non avrebbe avuto il suo spessore. C'è Maurizio che è stato bravissimo. Ma io sono veramente cattivo. Mi hai riconosciuto anche senza di più. In borghese. In borghese. Stai mangiando. Che emozioni ha provato a girare? Diciamo, le emozioni più che altro me le faceva provare De Gita quando mi faceva ripetere le battute. Le emozioni erano solo quelle perché mi ha scritturato per la mia fascia un po' da cattivo che poi in realtà sono buonissimi. Allora, con Angelo c'è una corrispondenza a livello di mail. e lui non sapeva che faccia avevo io. Un giorno mi ha mandato le foto per fargli vedere la mia bambina. Deveva essere anche lei nel film. E poi ha detto che ho la faccia da attore. Ha detto che mi voleva. E infatti... Sono finito che qua mi ha detto che ho la faccia da Kurgan. Non so se è un nuovo peso. Non sono certo un professionista. È il mio primo lavoro del genere. Sono contento perché ci sono però. Tra poco continueremo a festeggiare i primi 30 anni di Star Wars e festeggeremo anche il primo anno di Dark Resurrection. A tra poco.